Il rito funebre è celebrato al Carmine nel cuore dei carruggi genovesi, la stessa chiesa da cui Don Gallo fu allontanato 40 anni fa dall'allora arcivescovo Siri. Erano i migliaia ieri mattina per l'ultimo saluto al prete degli ultimi, morto quattro giorni fa 84 anni dopo una lunga malattia. Don Gallo era un simbolo per l'associazione a difesa dei diritti civili delle coppie omosessuali, sempre vicino ai lavoratori, nelle manifestazioni e nei presidi, un punto fermo per la sinistra radicale, la sua passione politica mai nascosta. La bara portata a spalla dai ragazzi della comunità di San Benedetto al Porto, da lui fondata sopra, la bandiera arcobaleno della pace, la sciarpa rossa e il cappello nero. Pugni alzati e bella ciao, la canzone intonata dalla folla al suo passaggio, ma che si è fatta sentire fin dentro la chiesa dopo che l'arcivescovo di Genova e presidente della CEI, il cardinal Bagnasco. Ha ricordato quando Don Gallo bussò alla porta dell'allora cardinale Siri, chiedendo di essere accolto. Negli ultimi giorni della malattia, curato, mi accompagnerò tutti. A riportare la calma dopo un minuto di sospensione dell'omelia, Lilli, la segretaria storica di Don Gallo. Così mancate di rispetto a Don Andrea, lui diceva che la chiesa senza testa non funziona, ha detto la donna dall'altare. Impariamo ad ascoltare tutti come lui ha ascoltato noi, ha concluso, scusandosi poi con Bagnasco per essere intervenuta. C'era Don Ciotti, il fondatore di Libera e Vladimir Luxuria, che ha ringraziato il Don per aver fatto sentire le creature transgender amate da Dio. C'erano Landini della FIOM e le bandiere Notav, piazza del Carmine affollata da chi Don Gallo ha saputo ascoltare.